Si sono concluse le indagini sulla morte di Valentina Buongiorno ad Arischia. Si è trattato di una tragica fatalità. Confermata l'ipotesi iniziale per la morte della 31enne ritrovata in una pozza di sangue in un'abitazione di Arischia il 28 agosto del 2018. Che si fosse trattato di un tragico incidente era stato rilevato dalle prime ricostruzioni effettuate dalla squadra mobile della Questura, allora diretta da Tommaso Niglio, che ha poi passato le indagini al suo successore Marco Mastrangelo. A far pensare subito ad un incidente era stata la chiave spezzata nella toppa della porta finestra. Il resto della chiave era stato ritrovato tra gli effetti personali della donna che evidentemente, non potendo più utilizzare la chiave, aveva deciso di infrangere il vetro dell'entrata. Una scelta fatale visto che la 31enne si è ferita a morte con le schegge, dissanguandosi in pochi minuti. La donna era stata poi ritrovata dal fratello. Il successivo esame autoptico aveva confermato la morte sopraggiunta a seguito del ferimento accidentale, ma gli investigatori della squadra mobile non hanno voluto lasciare nulla al caso, procedendo comunque con perquisizioni e analisi di tabulati telefonici. Le minuziose indagini non hanno rilevato alcun elemento che potesse far pensare a qualcosa di diverso dall'incidente. Così, dopo gli approfondimenti del caso, il sostituto procuratore Fabio Picuti ha chiuso le indagini. Il Tribunale del Riesame dell'Aquila, con il presidente Alessandra Ilari e i giudici Stefano Iannacore e Giovanni Spagnoli, ha colto le richieste della difesa dei due carabinieri di San Salvo, ristretti ai domiciliari, annullando la misura cautelare. I due erano finiti agli arresti domiciliari. A seguito di un'inchiesta, gli eventi contestati risalgono al 6 aprile scorso, quando i carabinieri fermarono un pregiudicato del posto presso un centro commerciale della zona. L'uomo è stato sorpreso con banconote false, che secondo l'accusa non sarebbero state tutte regolarmente sequestrate, ma mancherebbero all'appello 1.490 euro in banconote contraffatte. Uno dei due dovrà anche rispondere di divulgazione di segreto istruttorio nell'ambito di un altro caso di cronaca relativo a presunti maltrattamenti in una scuola d'infanzia. Nell'abitazione del militare sono state anche rinvenute scatole di proiettili detenute illegalmente. Altre quattro persone, tra cui un avvocato, sono indagate nello stesso procedimento. Il GUP del Tribunale di Pescara Antonella di Carlo ha disposto la riunione del procedimento relativo al presunto depistaggio dell'inchiesta sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola con il procedimento principale. Ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per provvedimenti conseguenti, di cui sarà data lettura nell'udienza del 31, quando sarà eventualmente designato il giudice unico. Nell'inchiesta bis per frode processuale e depistaggio, imputati l'ex prefetto Francesco Provolo, i vice prefetti distaccati Salvatore Angeri e Sergio Mazzia, i dirigenti Ida De Cesaris, Giancarlo Verzella, Giulia Pontrandolfo e Daniele Acquaviva. A De Cesaris è stato contestato anche il falso ideologico in atto pubblico. Il suo legale ha chiesto la riunione dei procedimenti. Per l'accusa formulata dal procuratore Caposerpi e dal sostituto Papalia, gli imputati, pur sollecitati a fornire elementi utili alle indagini, avrebbero omesso di riportare nelle relazioni le segnalazioni di soccorso giunte in prefettura il 18 gennaio 2017. Inaugurata all'Aquila la tre giorni degli Stati Generali dell'Arte. Come primo appuntamento si è svolto un forum nella sede dell'Accademia di Belle Arti. Ce ne occuperemo tra poco nella rubrica Il Punto. Inaugurata All'Aquila Inaugurata all'Aquila Enaugurata all'